Ti giuro, non li prendere a schiatti guarda, 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 guarda. Guarda, 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 guarda. Allora chi ti è fatto fare il disco? Che credo? Ma non è possibile. Abbiamo di quella band in Italia con i controcazzi, questi fanno fare il disco a tutti i progetti del cazzo. Ma non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Espina, sono le due e mezza ragazzi. grande Fagliari, grande, 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 oh se mi adottate vengo a figliere qua, mi piace la famiglia Tirina che mi ospita, sono disabili ormai, io mi sono guardato uno stronzo qui che cazzo guarda, guarda come cazzo è messo questo, mi faccio il castito cazzo, e ragazzi comunque io ho 59 anni, io ho 30 anni più di Luca, io comunque l'uccello funziona il cuore, è più interessato comunque, nella vita comunque ragazzi nella vita si può fare, in casa vostra vi potete anche ficcare un pallone al culo, ma rispetto, dove finisce la nostra libertà, se non c'è quella negli altri, grande rispetto, grande rispetto, grande, facciamo l'ultimo pezzo, ok?